Con la collettiva d'arte contemporanea Pantarei Tutto Scorre, in perfetta sintonia con il tema della settima edizione del Calabria Teatro Festival Il Tempo, si è aperta l'edizione 2017 dell'evento culturale, manifestazione inserita negli eventi storicizzati della regione Calabria al sesto posto della graduatoria. Il festival è organizzato dall'associazione culturale Corea 2000 sotto la direzione artistica di Rosi Parrotte e quella organizzativa di Angela Miceli in programma a Castrovillari fino al 15 di ottobre. Ieri sera sono venuta, ho visto l'allestimento, sono uscita emozionata e come ho avuto modo anche di esprimere tramite i social è stato un cancellare. Tanta bellezza, tanta arte, tanti artisti del nostro territorio hanno cancellato tutta la fatica, la stanchezza, le difficoltà anche economiche perché ce ne sono tante a favore veramente di tutta questa arte e di tutta questa bellezza. La collettiva d'arte contemporanea curata dall'associazione culturale Mistica Calabria con la sua dinamica presidente Ines Ferrante ha visto la partecipazione di ben 27 artisti che si sono cimentati attraverso la pittura, la scultura, la fotografia e le installazioni artistiche nello scorrere del tempo attraverso la loro visione personale con una sezione speciale dell'artista Lucia Longo dal titolo Il Tempo di un Fiato. Questo perché vogliamo dare il segno forte che l'arte è viva, è presente, c'è una bella sezione dedicata ad un artista come ogni anno abbiamo fatto, in questo caso Lucia Longo e questo è il tempo che scorre, il tempo che come l'arte passa ma lascia sempre qualche cosa. Al taglio del nastro oltre ai due direttori anche il consigliere provinciale Vincenzo Tamburi e il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito. Passione, crescita culturale e professionalità. Calabria Teatro Festival. Passione perché evidentemente se uno non crede nelle cose che fa non riescono così bene e poi ovviamente la professionalità perché l'hanno dimostrato, quelli di Corea 2000 hanno dimostrato di saperci fare. La mostra resterà in visione nella sala museale del Castello Aragonese fino al 15 ottobre, visitabile tutti i giorni dalle 18 alle 20. Intanto parte oggi il primo dei tre laboratori, quello cinematografico per ragazzi, l'utopia di fare il cinema, a cura dell'associazione culturale Gli Utopisti presso il Castello Aragonese. Martedì in scena invece al Siberis lo spettacolo del mentalista e cantastorie Francesco Busani racconta episodi in cui la sua vita si intreccia con l'impossibile e il paranormale, toccando le emozioni, viaggi, sogni e paure. Il suo tavolo sarà essenziale, solo un mazzo di tarocchi, una candela ed alcuni artefatti risalenti alla tradizione spiritica del primo novecento.